Il Channel Manager è un software che ti permette di vendere le camere sui portali online, ovvero sulle OTA, vetrine importantissime per tutti gli hotel. Grazie al Channel Manager l'hotel può inviare prezzo e disponibilità a tutti i canali online tramite un unico back office centralizzato, che si aggiorna in automatico e in tempo reale ad ogni camera venduta. Per ogni prenotazione in entrata le disponibilità si aggiornano in automatico su tutti i canali online, riducendo il lavoro manuale e di conseguenza gli errori. Questo permette di evitare spiacevoli situazioni di overbooking. Il Channel Manager quindi semplifica la gestione di tutti i canali online, sincronizzando disponibilità e prezzi su tutti i portali.